Dal primo giugno finalmente i Musei Vaticani riapriranno al pubblico, riapriranno dopo quasi tre mesi di chiusura con un rinnovato spirito di condivisione, condivisione del patrimonio universale, straordinario di storia, di arte e di fede che preservano da secoli. Riapriranno con tante novità come questa che è dietro le mie spalle, il restauro del Salone di Costantino, la quarta e grandiosa sala delle stanze vaticane di Raffaello. Riapriranno con delle novità emerse da questo restauro la figura della giustizia e della comitas che il restauro ha testimoniato essere di mano del grande e del divin pittore Raffaello Sanzio. Riapriranno anche con delle novità che riguardano la Pinacoteca Vaticana, sempre relativa a Raffaello, la sala ottava dedicata a lui in quest'anno di celebrazione di Raffaello è completamente rinnovata, rinnovata nell'illuminazione ma anche nel restauro della giovanile Pala Oddi, peruginesca e straordinaria, e in un nuovo allestimento con le ritrovate cornici ottocentesche e napoleoniche che sono state riposte in logo.